Allora sono qui su master.com e voglio far vedere come andare a mettere il recupero del primo quadrimestre ok dunque vado in pagelle clicco qua col tasto sinistro del mouse pagelle ok seleziono la classe mi interessa clicco qua ok vediamo se va ok qui ci sono i nomi che naturalmente nasconderò ok che sono nascosti degli alunni vado in tabellone ok vado clicco qui in recuperi a questo punto o gli alunni che devono recuperare e dunque poi positivo e schiaccio l'importante che schiaccia qua schiaccio ok a questo punto è diventato positivo vabbè spero esiti poi esiti inseriti correttamente ok spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima vederci grazie Grazie.